Ed ecco il trapasso. Il cuore mi ha schiantato durante una partita. Non era un normale capogiro, ma una sensazione surreale, come se stessi correndo nel corpo di un altro. Non ho provato dolore, nessuna stretta al petto o senso di oppressione, come quando si ha un attacco di cuore. Era una sensazione che non avevo mai provato prima, impossibile da spiegare. Ho iniziato a vederci doppio, mi sono sentito precipitare nel vuoto e ho avvertito un grande colpo quando sono atterrato con la testa sul terreno davanti a me, poi nient'altro. Un buco nero ed ero passato dove sono adesso. Commento. Il cordone fluidico che lega il corpo fisico al corpo astrale si rompe ed ecco il trapasso. Il cordone si allunga ed ecco la trance. Il cordone si straccia ed ecco il coma.